Ci troviamo nella splendida cornice del Palazzo dei Principi Carafa di Roccella Ionica e siamo in compagnia dell'artista internazionale Mariella Costa. Siamo qui in occasione della mostra personale intitolata Specchiarsi nell'Eterno Magia al Castello. Da dove nasce l'idea di questa mostra? L'idea di questa mostra nasce dal fatto che avevo voglia di portare le mie opere nella splendida location del Palazzo dei Principi Carafa. Pensavo che le opere si sarebbero valorizzate e al contempo anche il castello avrebbe assunto quella magia. Da qua il sottotitolo Magia al Castello. Ma Specchiarsi nell'Eterno è nato dal fatto che le opere, soprattutto quelle in pietra, sono delle opere che sono destinate a durare nei secoli e quindi guardare un'opera in pietra è come guardare all'eternità. Il finissage che avrà luogo a breve, tra qualche minuto, intitolato Finissage d'Amor, sarà un percorso emozionale, possiamo anticiparlo. Di cosa si tratta? Intanto è nato da un'idea della poetessa Antonella Iaschi che visitando la mostra si è emozionata dalle opere e quindi ha pensato di fare un finissage abbinando le sue opere poetiche che si confacevano a quello che è la mia produzione artistica. E quindi ha coinvolto la scrittrice e lettrice espressiva Rossella Scherle la quale ha coinvolto Oana, Corina, Mattia, che è una mezzo soprano e quindi è stata una specie di catena che ha portato a quello che è il finissage d'Amor. E il finissage d'Amor, la parola Amor, è nata da un'intuizione della stessa Rossella Scherle per il fatto che le iniziali dei nostri nomi formavano una specie di anagramma quindi la parola Amor. E quindi a breve ci sarà questo percorso tra parole e canto. E' un connubio quindi di talenti tutti al femminile. Anche la mostra e quasi tutte le opere sono dedicate a quello che è l'universo femminile e quindi fatto da donne per le donne. Io spero che non solo le donne ma anche gli uomini perché la donna è sempre alla base di tutta la società non ci sarebbe il mondo senza la donna e quindi anche che gli uomini possano fruire benevolmente di questa mostra. Ci tengo particolarmente a ringraziare coloro che hanno permesso oltre naturalmente alle artiste che sono le protagoniste della serata ma vorrei ringraziare coloro che hanno permesso di fatto la fruibilità della mostra, la mostra stessa e quindi l'amministrazione comunale del Comune di Roccella Ionica e la Ionica Multiservizi. Ci troviamo in compagnia della scrittrice Rossella Scherle a cui chiediamo come sarà articolato il percorso emozionale del finissage d'Amor. Siamo partiti ovviamente dalle opere di Mariella che hanno colpito maggiormente la poetessa Antonella Iaschi che ha visto che alcune sue poesie si adattavano a delle immagini che vediamo in questa sala. Per creare un filo logico tra il percorso e le immagini io ho scritto dei piccolissimi brani che raccordassero una poesia all'altra. A questi ho unito, chiamando ovviamente in causa il soprano leggero Oana Corina Mattia dei piccoli richiami a brani musicali molto 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 famosi che potessero aumentare l'emozione legata appunto a queste opere di Mariella. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.